E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video, riprendiamo con Call of Duty Mobile Allora come sempre vi invito sempre a seguimi su Instagram, Facebook, Twitch In descrizione trovate anche i link del mio canale Discord, cioè del clan scusatemi E il link alla pagina Instagram sempre del mio clan dove ogni tanto pubblichiamo cose random Boom! Eccoci qua in game ragazzi come avete visto da titolo partiamo subito a bombola E ragazzi sono uscite finalmente le Renetti, mi avete scassato un sacchetto per ste cazzo dei Renetti Da due settimane, anzi per due settimane, quando escono, quando escono io non sapevo nulla E finalmente stanotte alle due sono uscite Ma prima di andare a vedere le emissioni delle Renetti ragazzi andiamo a vedere l'estrazione di Maze Leggendario E altre strozzate tra cui le Renetti, anzi la Renetti, Leggendaria E ragazzi l'ho già fatta stanotte perché non vedevo l'ora Guardate cosa ho ricevuto La tuta alare metallurgia Bellissima, non vedevo l'ora di averla tuta alare Ultra power, ultra strong Mi ricorda vagamente The Mandalorian Il nostro carissimo amico Mando E poi ho ricevuto questa cartolina Che non è affatto male Quindi Miss Però purtroppo c'è il possaggio di Miss Peccato Non mi piacciono quando ci sono i personaggi onestamente Poi ho ricevuto il Tom Walk Metallurgia E l'ascia Metallurgia Ragazzi mi sono fermato qua Perché onestamente il resto non mi interessa Abbiamo questo zaino che non è neanche tanto brutto Un DRH purtroppo con un design piuttosto basic E poi vabbè appunto la Renetti Tra l'altro molto carina l'animazione qua dell'arma come ci si presenta E appunto il nostro Maze Guardia Finale Però ripeto ragazzi A me non interessa assolutamente nulla È già tanto Cioè ho fatto solo questa estazione Solo perché ho visto la tuta alare E adesso ragazzi partiamo subito Senza indugi Indulgi Gadulgi Cose random Allora Andiamo su stagionale E qui abbiamo Le missioni per l'Arnetti Allora Adesso come le altre volte Quando ci sono le missioni Ti spiego missione per missione Ne facciamo qualcuna Magari vi faccio vedere solo un pezzo della missione Tanto per vedere come si completano e quant'altro Poi arriveremo alla fine Anzi arriverò alla fine Sbloccando l'Arenetti E l'andiamo a potenziare al massimo Tanto di carte ne abbiamo a Yusa Oggi ragazzi naturalmente Che fan Te fai l'Arenetti Oro E Damasco soprattutto Allora Partiamo a bomba La prima missione Disputate le partite in qualsiasi modalità Quindi potete fare BR MG Credo anche BR tra carri Perché è uscita di nuovo BR Carro E MG classificata Questa io ho fatto tre classificate E l'abbiamo superata Uccidi 15 nemici Usando pistole Vabbè questa è abbastanza basic Perché tanto Quasi tutti usiamo Le Akimbo 50 GS Tra l'altro Credo che non ci siano Le Akimbo Per l'Arenetti Ho visto già diversi post Mi hanno spoilato un po' di cose Poi terza missione Uccidi 30 nemici Usando una qualsiasi Mv11 Una pistola un po' di merda Però purtroppo Devo usarla Uccidi 30 nemici Usando una qualsiasi Mv11 Equipaggiata Con la specialità FMJ E altri quattro accessori FMJ è stata aggiunta Al menu maestro d'armi Questa roba qua Delle parentesi Credo che non serva un cazzo Comunque semplicemente Appunto dovete mettere il pair Che la specialità È quella che trapassa Le superfici Più quattro accessori Che volete Quindi in totale Comunque devono essere Cinque accessori Tra cui appunto La specialità FMJ La terza ultima Non so se si può dire Missione Uccidi 30 nemici Usando pistole Dotate di quattro accessori Quindi qualsiasi pistola Ma appunto Con quattro accessori Su cinque La penultima missione Uccidi 5 nemici Con colpi alla testa Usando pistole Dotate di tre accessori Dovrebbe essere Abbastanza facile Ultima missione Per sbloccare l'arnetti Vinci 7 partite MG Equipaggiando Una qualsiasi pistola J358 Deve avere la J358 Equipaggiata in mano Al termine della partita Quindi Il mio consiglio Ragazzi Vi fate tutta la partita Con l'arma vostra preferita Come seconda arma secondaria Avete Avrete anzi La J358 Quando state per vedere Che la partita è finita Vi switchate l'arma Aspettate che la partita Sia finita E avete completato Oppure l'ultima missione Uccidi 15 nemici Usando pistole Quindi Per fare anche Abbastanza in fretta Queste missioni Visto che non mi sembrano Chissà che cosa Io vi consiglio A parte che sono uscito Alcune nuove Modalità Cattura la bandiera Molto carina Spade pietre Che praticamente È la modalità Età della pietra Che era uscita Tempo tempo fa In aggiunta Con frenesia Molto carina Abbiamo fatto ieri sera Con alcuni ragazzi Del clan Del clan Molto divertente Tutti di ship Sono le mappe Un po' Abientate in questi posti Con i container E quant'altro Combattimenti di gruppo Combattimenti di squadra Di missioni ridotte Va bene ragazzi Ma io Suggerisco Assolutamente Per fare Queste missioni Visto che non sono Particolarmente Tutti contro tutti Secondo me È forse La modalità Più semplice Tra l'altro Non ho mai portato In video La modalità Tutti contro tutti Mi vado un attimo A recuperare la missione Perché naturalmente Non me la ricordo Tra l'altro ragazzi Adesso ci ritorno Un attimo Con i cimici Con pistole Qua in evidenza Io ho fatto Tutta la teritera Di warzone Credo che fosse Il mio warzone Collegato ad activision Però non ho ancora Ricevuto la moneta Vabbè Se la ricevo Bene Altrimenti Sti cazzi Tanto della skin Non è che a me Freghi più di tanto Abbiamo pistole Equipaggiate Va benissimo Tutti contro tutti Partiamo bomba Intanto ragazzi Mi raccomando Like Iscrivete Sempre A solita Tiritera Poi ci sarà Una leggera modifica Per quella Per settimana La settimana Che devi unire Per quanto riguarda Sono col controllo Ragazzi Perché così Mi è più comodo Registrare Per quanto riguarda Le live Ma appunto Seguitemi su Instagram Così avrete I diversi Dettagli Con ovviamente Di orari Allora Partiamo Biondo Dai Non mi fa far 3 km Biondo Portacci sua Guarda Allora Guarda Guarda Ole Che cazzo Dettiri La granada Ragazzi Sappiate che io Con le pistole A Kimbo Sono Abbastanza Una Sega Se mi sono Qua con le armi Oh Attenzione Ok A parte che ho Lo schermo A 6 km Di distanza Che fa Che fa Brava Porca Trota Ando Porca miseria Nella granata vicina Mi ricordo Ieri Buon Lorenzo Che è morto malissimo Con la granata Ciao caro Bella lì L'altro Ieri In classificato Mi sono trovato Uno Che sparava A 6 km Di distanza Con la doppia pistola L'anima Del Bot suo Bella lì Abbiamo fatto 11 kill Allora Rimandami La Ferrari Grazie a me Ciao caro Arrivederci A parte che comunque con Le A Kimbo Spesso si fa Colpi alla testa A parte in Questo caso Ah ma è qua dentro Ragazzi Bene 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 Siamo a 13 14 Dov'ai? Ma che cazzo fa Mi rubo le chi Kill Senti Mandami una Trappetta che fa Molto design Salve gara Buongiorno Buongiorno A lei fa Oh madonna Infatti che i bot Fanno delle scivolate Da paura C'è solo da imparare Dai bot Comunque Arrivederci Allora Poi la missione Che vedremo Dopo Cioè in realtà Che l'abbiamo vista Ma non so Quanto vedrete Olè Oh colpi alla testa Vedete Quella per i colpi alla testa Secondo me Se non siete Se non avete Una bella mira Ragazzi Bel mirino Vaffanculo Io non approvo Cioè nego Quello che ho appena detto Io non lo userò Però se proprio avete Difficoltà Utilizzate il mirino Comunque ragazzi La tuta l'aria È bellissima Mamma mia Però non la vedremo In questa In questo video Magari ci farò Un video domani Perfetto Abbiamo completato La situation Ecco Dovevo scoprire Avete notato Cioè in realtà Soprattutto per chi gioca il joystick Con il joystick Che quando fate le missioni Tutti e contro tutti La schermata finale Devi per forza cliccare Col touch Esci Perché Non compare l'icona Del postante Vabbè ragazzi Questi sono pippe Mentali Terza missione Uccidi i 30 nemici Usando una qualsiasi Mv11 Non ci parla di accessori Quindi io direi Tranquillamente Possiamo andare Equipaggia Guardatela qua Quanto è cattiva Però Aspetta Il bigolo Per quello chiamato Il bigolo Non mi ricordo Ragazzi Io direi di partire Assolutamente A bomba Avvicinami Sono schermi Là Vedete Proprio un paio di kill E poi ci vediamo Alla missione successiva Coppa troppa Attenzione Super Mario Qua abbiamo Un crocetto Ebrebbe Un merda Attenzione Che fai Ok In realtà ragazzi Ho sbagliato A fare miss Cioè potevo Madonna signori Mamma mia Dai ragazzi Io direi Ci vediamo Alla missione successiva Comunque Abbastanza Quando fate Queste missioni Dove dovete uccidere Questi tanti nemici Non fate tutti Contro tutti Ma fate magari Postazione Che dura un pochettino Di più E postazione Su ship Mentre Ci mettete un attimo Olè Giustizia è stata riportata In quel di standoff Oserei dire Completata pure Questa mission Uccidi Tanta nemici Usando questi Persone F11 MF11 Copagiata Con FMJ E quattro accessori Molto Molto Bene Quindi ragazzi Molto Semplice Qua abbiamo già La nostra pistoletta Invece Invece In gioco Di prestigio Ci mettiamo Questa Qua Aspetta Quanti nemici Che giorni Non Avranno Tutti La pistola Ne sono Sicuro Guarda Quello Stronzo Lassopra Bastardo Ti ha basciottato Subito Questo Eh ragazzi Comunque Farla Su Shipment E' un po' Una rottura Di coglioni Comunque Viene ucciso Veramente Tanto Quindi Consiglio Assolutamente Fatevi Tutti Contro Tutti Che Al limite Vi trovate Due nemici In croce Due nemici Reali Signore Un quantitativo Di coppiata Sta Impressionante E l'abbiamo Copredata Signore Abbiamo fatto 30 K Con sta Pistoletta Della minchia Perché è una pistola Della minchias Fatemi sapere voi Se vi piace La MV11 E come L'ho settata Tanto Avete visto per un attimo Il gas Mette prima Lì mettevi Fate uno screenshot Ok Stagionale Attenzione Uccidi sempre 30 nemici Però con 4 accessori Allora Io direi Semplicemente Andiamo a toglierci L'FMJ Vedrete La parte finale Di questa missione Lanto Non è niente Di particolarmente Complesso Eh signore Lo siamo anche noi Ok A parte che siamo morti Ragazzi Bomba nucleare Con la pistoletta Eh Sotto di botte Lo sappiamo Però ragazzi Guarda Ebbene E qua Se doveva fare A nucleare Guarda come sbrilluce Con la situazione Sto coglione Che mi fa sempre assist Tua madre Cariola Vabbè signore Ma di che cazzo Stiamo parlando Sono dei bruni Non è vero Ci ha rubato la kill Vediamo se siamo riusciti A fare 30 kill Senza contare Le 5 kill Con la nucleare Signori Ce l'abbiamo fatta Ottimo Perfetto Dovremmo essere Intanzitutto Andiamo a riscattare Il premio Giornaliero Dovremmo essere Esatto Alla penultima missione Uccidi 5 nemici Con colpi a testa Usando pistole Dotate di 3 accessori Allora Io qua Suggerisco Come a inizio video Tutti contro tutti Togliamo sto schifo Di a pistolas E ci mettiamo La 50GS Fica Fica Pro E li andiamo A togliere Qualche accessorio Rimuovi la doppia arma Perfetto 1, 2 E 3 Ottimo Signori Partiamo a bomba Con questa missione 5 nemici Ah no sulla barca Ma che è sulla barca 1 2 3 4 E 5 Siamo morti malissimo Ma abbiamo completato La missione E siamo pure arrivati primi Tra le altre cose Ok ragazzi Missione Completata Abbiamo sbloccato ICR Pietra Porta Fortuna Che rimarrà lì Dov'è? Vinci sette partite MG equipaggiando Una questione Sì qui sola J358 Allora Vi acconsiglio Assolutamente Basta che Vi mettiate La J358 Noi ci mettiamo La sbudella Bot Guardala qua Molto fomentatissima Questa pistoletta Tutti contro tutti Ma andrei anche A scegliere la mappa Per non stare lì A girare Come un coglione Ma io farei un rust Proprio così Al volo Saranno sette partite Ovviamente Non ve le faccio vedere Tutte quante E ne vedremo Qualcuna Che cazzo ne so E ci vedremo A fine missione Quando sbloccherò La Renetti Mi raccomando i like Fate poco di spiritosi E condividete Mi raccomando Condividete È il minimo Che potete fare Il minimo Fuori 1 Fuori 2 Fuori 3 Provi col 4 4 E tentiamo il 5 5 6 E 7 Signori Finalmente abbiamo Completato Tutte le missioni E abbiamo sbloccato La Renetti E vediamo un po' Come si comporta Tra l'altro Ho fatto prima Una partita Che non avete visto Naturalmente E c'era una persona Che aveva questa Renetti Quindi Quindi Andiamo al posto De questa Eccola qua La Renetti Qui va beh La sua versione Leggendaria Che devo dire Abbastanza bruttina Anestamente Ragazzi abbiamo 744 carte Che fa Te la potenzia Al massimo Questo baracchino Allora Allora Ecco Tanto che equipaggio La primo Andiamo di canna Canna leggera Mip Tempo di metà di mirino Un po' Dispressione di metà di mirino Portata danni Dispressione di metà di mirino Portata danni Rinculo Verticale Allora Io andrei Con questa Che è la Renetti Un po' Più Cazzutissima Poi Munizioni Capacità del caricatore Capacità del movimento Tempo di ricarica Capacità del movimento In modalità di mirino Capacità del caricatore Più 12 Movimento Capacità del movimento In modalità di mirino Che ti se ne frega Tempo di ricarica Tempo della modalità di mirino Ragazzi io proverei Magari non il B Ma il grado A Grilletto Grilletto leggero Intervallo di fuoco Dispressione senza mirare Dispressione in modalità mirino Intervallo di fuoco Dispressione in modalità di mirino Proverei col grilletto avanzato Volata Minchia raga Questa è cattivissima Sinizzatore monoblocco Ma scusami un attimo raga Non dirmi che è buggato Ma che è? Ah ah No ragazzi Guardate quanto è buggatissimo Orribile Orribile No lo rimuoviamo Il baraccone Poi ci mettiamo Io direi Gioco di prestigio Perché Per compensare un po' La La velocità di ricarica Oddio Che cos'è sta roba? Il culo verticale Ma che? Ah ah No ragazzi Ma che cos'è sta roba? Ragazzi Questa sarà l'immagine Di copertina Di questo video Guardate che ho sputato Tipo in ogni dove Ma ragazzi Ma che cos'è sta cosa? Ma io mi chiedo Ma come fa C'è una pistola E ha il calcio Madonna Ragazzi Scusate Ma io voglio andare Con sta roba qua Calcio combo Allora Allora Baccaamento da poco Dispressione di mirino In culo verticale orizzontale Tempo di mirino Città di Oddio Questo ci mettiamo Tre ore Vabbè ragazzi È solo per provarla Perché Ma ti giuro È stato malissimo Ma che cos'è? Ma state fuori Allora ragazzi Andiamola a provare Direi una cosa Molto Veloce Facciamoci Tutti contro tutti Proprio Così Barbons Aspetta Oh madonna Ma che cos'è? Raga Allora Mi piace Un botto Mi avevano detto Che Era Un tripo colpo Ma Ragazzi ma C'è un design Da paura Ok Tre colpi Se li metti bene Shotta Assolutamente Mamma mia Ragazzi Ma è stupendo Ma questa c'è la Ragazzi Sbloccatela Tutti Ok Adesso ci sono giocatori Sto giocando un po' A cazzo di cane Sbloccatela Tutti ragazzi Perché domani sera In Live A tutti I colarenetti Ditemi se Comunque L'orgasmite Che ho messo Oltre ad essere Orribile Comunque È funzionale È molto Molto Ferma Porca puttana Guardate Non si schioda Ok bravissimo Allora Beh Ma perché adesso Ve lo sto Concedendo A parte che come cazzo Fa sparami da 6 km Vamo vedere quello Ok Purtroppo Non l'abbiamo Utilizzata A pieno Ragazzi Ma mi piace Tra l'altro Bello Come la tiene Leggermente In diagonale Anche lui Aveva l'alarmetti Mi sembra di sì Però quel sensatore Non mi piace il sensatore Spero che in un aggiornamento futuro Lo sistemino Perché in alcune armi Alcuni Equipaggiamenti Sembra che siano messi Un po' Per caso Comunque ragazzi Mi piace Veramente Un sacco Bella Bella Come pistola Io pensavo Fosse un triplo colpo Un po' Alla M16 Un po' Alla Cicom Invece Assolutamente Niente Da dire Lasciando Ragazzi Sto Sare Un po' Morita a ridere Comunque Missioni Per farla Oro E' vero che abbiamo Clicato due volte Uccidendo 200 nemici Senza mirare 25 dalla lunga distanza Con accessori Al completo Colpi Alla testa E 60 Senza accessori Per sbloccare La mimetica E ragazzi Probabilmente Di questa pistola Mi impegnerò A farla diamante Perché io Vi dirò Mi piace Come design E' molto Molto Pulita Semplice Assolutamente Mi piace L'indicatore Perfetto Quindi ragazzi Queste erano le missioni Per sbloccare La Renetti Molto Molto Semplici Fatemi sapere voi Se l'avete già sbloccata Se vi piace Per ora Mi ci sto trovando bene Poi Insieme anche Agli altri Per esempio Del clan Lupo Ilia E quant'altro Al limite Andrò Ad gestarlo Salutiamo il vicino Che tira giù l'acqua Ogni volta Che io registro E poi domani Sera In live Che durrà Un pochettino Meno Un po' come ieri Rispetto al solito Andremo A farci Col clan Con amici Più disparati Qualche partita privata Renetti Versus Renetti Perché top Top E fatemi sapere Se siete stati Fortunati Ad aver sbloccato Innanzitutto La tuta l'area Che secondo me Il top Di questa Estrazione E anche La Renetti Leggendaria E come Vi trovate E da voi Pasquali Mando un enorme saluto Un enorme abbraccio E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao a tutti ragazzi